Sono Cristian Mojadeh, sono designer industriale e credo che un designer è intelligenza e creatività, no? E questo è un momento che devo pensare come usare questa intelligente creatività in un modo appropriato, un modo capace di trasferire l'importanza del recurso materiale, tecnico. Io sono artesanato dell'Argentina, anche della regione latinoamericana. Mi piace la ricerca del materiale, la tecnica. Un progetto fatto per l'azienda Fratelli Bofi, un progetto che tiene armonia dell'industria, anche dell'artegianato, che è in dialogo con la naturalezza, con la forma più naturale, più armonica, più aperta. Se devo contare il mio progetto in tre parole è naturalezza, armonia e sostenibilità. Grazie. Grazie.